Con Focus Station Wagon Ford ha raggiunto la quadratura del cerchio. Lunga appena qualche centimetro più dei 4 metri e mezzo che costituiscono il massimo ingombro possibile per trovarsi a proprio agio in città e nelle strade strette di montagna, ma anche il minimo indispensabile per poter viaggiare senza problemi di spazio né di comfort a bordo, la Focus in questo allestimento di carrozzeria offre comodità per 5 persone e un vano bagagli che va da 490 a 1516 litri, condito da un livello di accessori personalizzabile per ogni singola esigenza. Non è un caso infatti che il range di prezzi sia uno dei più articolati per un solo modello. Si può comprare una Focus Wagon a partire da 20.000 euro, ma potrebbero volercene fino a più di 37.000 per raggiungere il top di gamma. Insomma, una scelta personalizzabile fin nei dettagli. Quanto ai motori, diesel e benzina vanno dal 3 cilindri EcoBoost da 1 litro fino al 2000 cm3 del 4 cilindri turbo diesel con potenze da 100 a 185 CV. E senza dimenticare quella versione molto speciale che è la sportivissima AST, benzina che di cavalli ne è addirittura 250. Poliedrica in tutto dunque con un'offerta articolata anche per i cambi, manuale a 5 o 6 marce e sequenziale PowerShift che a nostro avviso si è mostrata una soluzione ben proporzionata ai 150 CV del 2000 diesel della nostra prova. In oltre 2.000 km percorsi da Roma fino nelle Puglie e in Basilicata, la nostra Focus non ha mai denunciato incertezze nella tenuta di strada con un assetto equilibrato e mai troppo rigido e mostrato di avere cavalli sempre pronti su richiesta dell'acceleratore nel traffico come nelle salite più ripide, in autostrada e nelle vie rurali strette e tortuose. I consumi fissi in una media di 15 km con un litro di gasolio. Per quanti volessero poi anche un aspetto più grintoso ed esasperato senza dover affrontare consumi eccessivi o prestazioni troppo impegnative, si può scegliere la versione ST-Line che vanta un look da ultra sportiva ma con motore più normale, come il 2 litri di questa prova appunto. Insomma, nel carrello della spesa per l'auto fate posto, c'è una Focus Station da portare alla cassa.